Dopo mesi di polemiche, discussioni e scontri sul terzo mandato, il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, e la segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein, hanno un'opinione concorde. Il tema è la sconfitta della destra alle regionali in Emilia Romagna e in Umbria, per entrambi, a pesare sul risultato alle urne, la sanità. Le prime misure proposte per la legge e il bilancio si espongono da alcuni punti di vista. Non c'è dubbio che la sanità rimane il punto di maggiore sofferenza. Queste misure nazionali sicuramente hanno una ricaduta in termini di opinione pubblica e non potrebbe essere diversamente. L'occasione è stata la conferenza stampa nel corso della quale il numero uno di Palazzo Santa Lucia ha illustrato gli interventi della nostra regione in materia di procreazione medicalmente assistita. Nei nostri centri per la procreazione medicalmente assistita abbiamo risultati positivi, quindi di gravidanze realizzate, quasi nel 50% dei casi, a conferma del fatto che il servizio è veramente di assoluta eccellenza. Secondo, abbiamo per quello che riguarda i costi ineliminabili i livelli più bassi d'Italia per i costi vivi. Terzo, noi garantiamo la crioconservazione dei gameti. Per pazienti oncologici noi garantiamo la conservazione, il congelamento di ovociti, di sperma, di spermatozoi per garantire gravidanze future.